Sono l'unico sindaco in Italia, l'unica persona, l'unico politico che si dimette per un avviso di garanzia, avviso di garanzia al suo vice sindaco e per l'arresto di un ex assessore per qualcosa che ha fatto quando non era mio assessore. Ecco, l'ISI, è uscita questa telefonata in cui a un certo punto lui dice il terremoto, che colpo di culo, perché adesso ci possiamo fare i soldi. L'ISI era mio assessore dei lavori pubblici prima del terremoto. Cosa pensa lei quando sente queste parole? Ma fa schifo questa cosa, è chiaro che fa schifo, un colpo di culo, mi scusi, quando noi abbiamo patito, anche lui ha patito, anche l'ISI, però l'ISI è un geometra ed è entrato in quello che io sto denunciando. Qui guardate, è come vendere i gelati nel Zara per alcune categorie professionali. C'è una parte di città, mi creda, che dice veramente che è un colpo di culo, lo dice l'ISI che è un geometra, e lo dice non perché nella sua funzione è un assessore, ma di geometra. L'hanno detto tutti gli ingegneri, l'hanno detto a Quilani che hanno affittato ad altri Quilani disperati le case a prezzi che neanche avvia Montenapoleone a Milano. La partita che vale in tutto il cratere, secondo me, 8 miliardi, 16 mila miliardi qualche lire, o anche di più, è la ricostruzione privata. Io dico, va benissimo, ma mettiamo delle regole. Ho sempre chiesto queste regole, anche perché il sistema si sta deteriorando. L'altra persona che è stata colpita e che è sotto indagine attualmente era il suo vice sindaco, che si è dimesso subito dopo, Riga. Si parla di una presunta mazzetta, lei ha detto io lo ammazzo se questo è vero. Lo ammazzo per un semplice motivo, perché io più volte ho detto a Roberto, Roberto guarda, è Roberto che è stato con me nelle ore più difficili da quel senso, dice Roberto guarda, lui mi giurava sui figli, mi ha sempre detto Massimo questa è una città cattiva, io sto pulito e l'altro giorno mi ha giurato sui figli. Se si dovesse confermare, io Roberto, quando lo incontro, non dico che lo ammazzo perché c'ho famiglia, però penso che gli alzo le mani addosso. Le chiedo se lei ha qualcosa di cui pentirsi, se ha sbagliato qualcosa. Io credo di aver sbagliato probabilmente a scegliere alcuni collaboratori e penso che potrebbe emergere che ho sbagliato ancora di più a fidarmi di alcune persone, però ne rispondo moralmente. Mi hanno telefonato molti sindaci italiani, dice se tu ti rimetti, ammetti la tua colpevolezza, ammetti che poi il processo si sgonfia, ne esci bene. Io non posso farlo di aspettare, per un semplice motivo, perché in questo momento io ho uno scontro con il governo di fronte agli occhi dell'Italia per chiedere che l'Agura si ricostruisca. L'Agura è stata abbandonata soprattutto dal governo Letta, sin dall'inizio, perché alla vigilia nasce il governo Letta, esattamente due giorni prima l'elezione del nuovo capo dello Stato, concordai che, come d'accordo con il governo Monti e il ministro Barca, per il 2013 sarebbero arrivati 800 milioni di ricostruzione e per il 2014 un miliardo e due, se non che arriva il governo dell'Argentese e l'Agura sparisce. Allora io capisco l'area e dico, levo le bandiere, ridò il tricolore a Napolitano, non le dico per dare il tricolore al Quirinale. Lei è andato a Roma a fare questo gesto simbolico? Sono andato a Roma, sono andato alla porta del Quirinale e dico, sono il signore dell'Agura, riporto la fascia a Napolitano, guardi è un libro, questa ti farà... E lei l'ha fatto perché voleva il miliardo che le serviva, no? Io volevo salvare l'Agura. Mi dissero che ero un delinquente, che ero un pazzo scatenato, però ho preso il miliardo e due. Però guardi, io quando rimici la bandiera, disse ai miei collaboratori, ragazzi, con questa storia io la pago. Non dico che adesso abbiamo fatto tutto per questo, però intorno a me il clima è diventato... Cioè non si fidano più di me, perché sono un cavallo pazzo. Cosa dice per ultimo gli aquilani che stanno leggendo di queste tangenti? Reagite, pensate a voi, interrogatevi, rimandate il giudizio a quando la magistratura avrà fatto il suo lavoro, chiedete alla magistratura di scavare ancora di più su tutto, però combattete, perché tanto o si attua il coloprogramma oppure questa città è morta e i nostri figli andranno via.